La Parguro, quella è prima e dopo lavoro nome... Giuseiio! Teorezzerci che posso dire più come sono giuroso No, vediamo tutto adatta a coppa, la sorta è tutta apposta nome... Marco età... profession... studente infatti, giocamano, questi ruoti che non fai niente in regola cosa studi? Devo la mia Fai punto la spesa a mamma Fidanzato Pure Dov'è? Alza la manina, fatti vedere Ciao, ci vediamo dopo Vada, vada Guarda i bellocchi E qui ci vedete, no Riusci, ma è concentrato